presidente dopo i malatesta fanno la pandolfaccia ci dà una novità interessante un nuovo spettacolo che si intitola alla corte dei malatesta la originalità di questo spettacolo è che è uno spettacolo itinerante ovvero si svolge in diversi punti della città di che cosa si tratta sì l'idea nasce tutto quanto da una collaborazione con il teatro alte marche che è una compagnia di ragazzi giovani del territorio e soprattutto parte da cantiano terra che conosciamo che ha sofferto da lì con loro in quella terra collaboriamo per un festival marche storie dove c'è proprio uno spettacolo itinerante la bellezza di questo spettacolo abbiamo detto ma perché non farlo a casa nostra e scrivere uno spettacolo che non è una rievocazione storica ma uno spettacolo teotrale che parla della famiglia malatesti in generale anche generante fresco estivo e che si porterà praticamente lungo tutta l'estate quindi è un progetto di accoglienza turistica in cui delle date che troverete nel bocchello candini manifesti e la città avrà la possibilità di fare questo vedere questo spettacolo teotrale ma non stando fermo ma movimento quindi si partirà dal pincio e si andrà proprio alla corte dei malatesta quindi dentro la corte malatestiana ci dica qualcosa di più si tratta di una rievocazione che riguarda fatti d'arme oppure spettacoli di corte che cosa avete inventato è uno spettacolo teatrale che praticamente coinvolge la pandolfaccia e questi attori quindi di base si potranno vedere duelli danze si potranno vedere ma soprattutto il centro sarà la storia teatrale che gira intorno alla pandolfaccia e alla famiglia di malatesti entriamo più nel vivo intervistiamo giacomo tarsi che è uno degli autori dei testi teatrali che verranno rappresentati e diciamo come nata l'idea di questo spettacolo e in realtà come si evolve poi attraverso la città questo spettacolo nasce dalla collaborazione con la pandolfaccia noi siamo tam teatro alte marche e abbiamo deciso di scrivere una storia ambientato nel contesto dei malatesti nel periodo storico in cui seguiamo molto da vicino l'evoluzione di un protagonista del protagonista che è che è un fabbro e quindi lo seguiamo attraverso fano lungo tutta la storia la storia ha tante cose al suo interno tra cui combattimenti c'è la corte ci sono gli sbaglieratori quindi è un uno spettacolo molto immersivo in cui il pubblico si sente proprio avvolto dal da questo periodo e speriamo che sia molto molto divertente molto entusiasmante i protagonisti non sono se cismondo pandolfo pandolfo terzo insomma a questi personaggi così ma sono gente del popolo sì abbiamo deciso di prendere cioè di ambientare in quel periodo storico ma prendere una storia di una persona comune diciamo mi piaceva molto esplorare esplorare molto il singolo diciamo la persona appunto del popolo che si ritrova all'interno di un momento storico più grande mi piacciono molto quelle storie dove ecco le persone comuni ad un certo punto della storia si intrecciano la piccola storia con la grande storia ecco si intreccia e in questa storia abbiamo cercato ecco di raccontare raccontare questo ecco